Allora, che cos'è questa challenge? Questa challenge è per spiegare meglio come utilizzare la pedane vibrante e le coppe. Le coppe le trovi su gilcubber.it e le pedane vibrante le trovate su GM24. Io scelgo tutte le pedane che presento su GM24, sono scelte da me perché lavoro io con i produttori per fare il massimo per quelle che mi serve. Che cosa mi serve? Mi serve la potenza giusta, l'asse di lavoro giusto, il massaggio tessutale giusto per aiutarvi con gli anestetismi delle cellulite. Mi sono scattata delle foto della mia ritenzione idrica e fra sette giorni dopo che ho fatto, anch'io tutti i giorni con voi, almeno 20 minuti di pedane e le coppe, vedremo come cambia anche la mia di gamba anche se non sono molto pronunciato, ok, magari è più difficile vedere le differenze su di me di una persona che ha una situazione magari più importante, ma questo non vuol dire che non dobbiamo assolutamente farti vedere le differenze, anche su una gamba abbastanza asciutta. Stamattina ho già fatto 20 minuti e partiamo con le pedane vibrante. Allora, io scelgo tutte le pedane vibrante che trovate su GM24 e che cosa fa la pedane vibrante? Allora, noterete bene che mi fa ballare tutto il tessuto, ok, mi sta contraendo i muscoli, ok, 10 minuti di pedana, mi porta, ok, queste vibrazioni mettono in contrazione i miei muscoli, ok, in pratica i miei muscoli stanno contraendosi alla stessa velocità della pedana o delle vibrazioni delle pedane che innesco o diciamo imposto e queste piccole contrazioni stanno provando di smorzare l'entrata delle vibrazioni da dove c'è ovviamente l'appoggiamento dei miei piedi fino in su. Questa è la prima cosa. Mi mantengono, ok, o mi mantiene queste contrazioni o queste vibrazioni per la durata della mia seduta. Ecco perché mi può anche addirittura portare il mio contrazione a 300% la mia di massimale. Quando sei sulla pedane vibrante e stanchezza lo sentirete, lo sentirete prurito, microcircolo, sentirete stanchezza perché i muscoli stanno lavorando, veramente, ok, ma non lo stai provocando, non ti fatichi di fiato, non ti fatichi come un allenamento in palestra, ma sentirai la fatica e lo so, è un po' difficile da spiegare se non la provi. Ok, così, mi metto giù, lascio che le vibrazioni entrino e molto importante è rimantenere le gambe piegate, 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 ripeto ancora, piegate, perché la gamba piegata è quello che ci fa lavorare al meglio il muscolo e non il bacino o lo scheletro o far scuotere la testa perché non vogliamo assolutamente far ballare nella vista, nella voce, se tu senti, lo stai facendo sbagliato, se lo stai facendo correttamente, vedi che non mi vibra la voce perché non arriva la vibrazione alla testa perché ho le gambe piegate. Ok, adesso, i muscoli si contraggono, rimangono a 300% il loro massimale, ovviamente dipende dell'intensità che sto utilizzando e le trattengo per 10-20 minuti, ecco perché una singola seduta delle pedane vibrante è come fare 40 minuti in sala pesi, perché quando mai potresti tenere le vostre muscoli contratte per 20 minuti interamente, non ce la fai, ecco perché aiuta a fare veramente di più e non ci sono tempi di recupero. La pelle, ok, noterete che la pelle balla, questo, diciamo, scossa, non è una scossa, è un massaggio, il pentino è molto, molto microscopico, vado in bene, ok, mi sta migliorando il tessuto connettivo, il tessuto connettivo mi sta aiutando proprio, scusatemi, voglio controllare una cosa, ok, sì, perfetto, ok, mi sta aiutando la pelle a massaggiare là dove ci sono gli anestetismi delle cellulite e questo mi aiuta a migliorare gli anestetismi delle cellulite dove ci sono aderenze del tessuto connettivo e così mi sto massaggiando e mi sto liberando anche delle connessioni, se diciamo, del tessuto connettivo. L'altra cosa è che tutta questa pelle, perché io ho una pelle immatura, perché ho 53 anni, la pelle immatura viene stimolato, il fibroblasti, a dire aggrappati, ok, ferma quella pelle, ferma, cioè questa scussione agita o amplifica o stimola ancora meglio l'attività dei fibroblasti a trattenere il tessuto connettivo, così la pelle diventa più attivo, così abbiamo, sentiremo, prurito della potonschia, perché quello microcircolo che si attiva, che aiuta anche con le zone asfittiche o sclerotiche dove c'è gli anestetismi delle cellulite, ci aiuta a massaggiare il nostro tessuto connettivo e questo ci aiuta a spianare dove ci sono gli anestetismi delle cellulite, ci aiuta a contrarre i muscoli tre volte tanto, quelle che potremmo fare da soli e lo fa ininterrottamente per la durata del nostro allenamento, che siano o 10 o 20 minuti, ok, ci aiuta la pelle perché aiuta a stimolare la pelle a diventare più tesa, più tonica e più, diciamo, più bella, perché stimola i fibroblasti a produrre più collagene, ci aiuta le ossa, ok, perché tutta questa iperattività a livello delle ossa, ci aiuta le ossa a mantenere la loro calcificazione, ok, mantenere la loro mineralizzazione, ok, mantiene i minerali dentro le ossa e ci aiuta a prevenire le osteoporosi, ok, e questo lo dobbiamo fare per 10-15 minuti, stop, io oggi l'ho già fatto per 20 minuti stamattina perché fra 7 giorni, questo giorno 2, fra 7 giorni vi farò vedere i miei risultati proprio dedicati a questo challenge, è uno challenge dedicato, dove posso mettermi che mi vedete meglio, il challenge per migliorare gli anestetismi delle cellulite, allora, adesso, no aspetta, vado a prendere una sedia perché è ancora meglio, perché questa, adesso passiamo a parlare delle nostre, le coppe, ok, ecco mi metto qua, sono più vicino, mi metto vicino e le coppe sono qualcosa di straordinario, le coppe le trovi sul mio sito, le coppe arriva una grande e una piccola e una spazzola, e la spazzola usiamo per, diciamo, morbidire il tessuto connettivo, ma io uso la pedana vibrante per quello, se non c'è la pedana vibrante usate la spazzola, ma se ce l'hai la pedana vibrante dopo che hai fatto 10-15 minuti avrai il microcircolo a bomba, la gamba è riscaldata, i liquidi si stanno viaggiando, andiamo a dare la colpa di grazie con le coppe. Allora, guardate, le coppe sono ventose, fatte in silicone alimentare, indistruttibile, cioè veramente una volta che hai preso le coppe dovrai distruggerli o perderli, ok, lo dovrai tagliarli, sminuzzarli a pezzettini o altrimenti perderli per smettere di utilizzarlo, così in pratica è un investimento che lo faccio una volta e stop. Allora, come si usano le coppe? Si possono aiutare a utilizzare in diversi modi, però andiamo per pensare per tutti quanti che dicono, ah, ho problemi della fragilità capillare, si va solo nell'asse della direzione che va nel nostro ritorno venoso, cioè stacco, attacco vicino il ginocchio e riporto su, stacco, attacco e riporto verso l'anca. Queste sono per le persone che hanno problemi di fragilità capillare, che hanno problemi di vene varicose, problemi circolatori, ma questo non è per fortuna un problema mio, è così. Tecnicamente posso anche fare movimenti un po' più oscillatorio, volendo perché non soffrendo del microcircolo o ha una libertà di movimento maggiore di una persona che ne ha. Un altro consiglio mio, se vogliamo assolutamente avere il massimo del nostro drenaggio, è di utilizzare, specialmente se ha un problema microcircolatore, Farmaven o Easy Drain, sono due. Allora, Farmaven è proprio per le perete venosi e così ci aiuta a fortificare le perete venosi prima di affrontare la pedana vibrante o le coppe, così abbiamo le vene che sostengono questa pressione maggiore, perché la verità, qual è il problema di fare la pedana vibrante per chi soffre delle vene? Il problema è che la pedana vibrante stringe esattamente tanto, aumenta il flusso microcircolatore e potenzia questo ritorno microcircolatorio, che una vena debolluccia, i capilari potrebbero, diciamo, rompersi. Ecco perché molte persone dicono, ah se hai fragilità capilare, non usare la pedana. La prima cosa è non usare la pedana magari con entrambi le gambe sopra. Potresti sempre metterci una gamba sopra e tu stai dietro con l'altra gamba, così, cioè una gamba sopra e una dietro. O altrimenti, di certo, non partire con la pedana vibrante al massimo, comincia con la pedana vibrante all'1 a 5, 1 a 10. Le nuove pedane vibrante, quello deluxe che sta su GM24, arriva fino a 180 velocità, così la prima volta usiamo 10, 20. Non usiamo 180 subito. L'altra cosa è le coppe. Le coppe, ovviamente, possono essere più o meno, diciamo, aggressive. Se io faccio una soluzione, tantissima è una soluzione normale che strattonerà di più o, diciamo, avrà una soluzione molto più potente. Lo faccio di meno, lo faccio più breve o lo faccio più suave. L'altra cosa che mi piace tantissimo fare è fare il pompaggio. Guarda, metto pompa, 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 sposto. Pompa, 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 esposto. E sempre, come potete notare, la sto portando dal ginocchio, pompa, 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 sposto, pompa, 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 sposto, pompa, 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 sposto, fino a arrivare dal ginocchio fino all'anca. L'altra cosa è che dove abbiamo magari un po' più di ritenzione idrica, andiamo a concentrare di più in quelle zone. Se tu hai un problema di anestetismi delle cellulite, è molto probabile che avrai anche un problema di infiammazione. E la prima volta che lo fai, tu sentirai tipo cai, 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 cioè comincerai a sentire un dolore, ma più dolore c'è, più vuol dire che è intrasata la zona, più infiammata la zona, più la zona deve essere liberata. Così tu puoi comunque fare sempre quel pompaggio nella zona, pompare e aiutare, diciamo, il microcircolo di essere portato in auge. E ti garantisco che dopo poche settimane non sentirai più dolore perché avrai liberato la zona e avrai liberato non solo ritenzione idrica, ma comincerai a portare anche il tessuto connettivo di essere più spianata. Il mio consiglio, se vogliamo avere una gamba più snella, infatti ho fatto adesso un nuovo percorso sulla mia palestra online, gambe snelle, che è tutto, digiuno e intermettenza, allenamenti, piedane vibrante, le coppe, è un percorso per avere le gambe più snelle. Se volete seguirlo, il mio consiglio sempre è di fare coppe in quasi tutti i giorni, almeno 10 minuti per zona. e quando parlo di 10 minuti per zona è gamba, gamba e se vogliamo gluteo, gluteo, però per motivi abbastanza evidenti non vado a farvi vedere il mio trattamento ai glutei. Ho fatto questo challenge perché molti di voi, a volte si stende a credere che è una pedana vibrante e le coppe ti possono dare risultati e io ho tantissime foto e ci sono delle persone che dicono, ah non è possibile, non è possibile che questi sono risultati. Ho detto, vabbè, più chiaro di così, a farlo con voi, a farlo di fronte a voi e poi farti vedere le foto prima o dopo in sette giorni, ragazzi, non posso fare così. questa è la massima trasparenza che posso proprio fare, lo faccio sulla mia stessa persona. E ti dico un altro motivo perché mi piace fare questo challenge, scusami perché ho la mano un po' incremata. ho una pelle matura e la pelle quando andiamo a trattare, non so se riuscite a vedere, ma quando andiamo a trattare con le coppe miglioriamo anche la pelle stessa perché lo stiamo massaggiando. E un massaggio a una pelle matura con una crema emolliente è un modo eccellente per tonificare anche la pelle, ok, ginocchio e poi lo porto da ginocchio in su. Uso la coppa piccola, ieri, non so se riuscite a vedere, ieri l'ho fatto qui per decontrare, lo vedete? Cioè, ecco qua, avevano contratture sulla spalla, infatti chi mi seguiva ieri è arrivata la mia massaggiatrice e lavorando con fluid, lavorando con calistenico, spesso e volentieri mi carico tanto sul trapezio e allora uso anche le coppe per le contratture e più che lascio un segno, meglio è, qualcuno dice, ah, assolutamente non fa bene a vedere questi segni, questo non fa assolutamente bene, studia, vai a guardare, a leggere la medicina cinese e vai a guardare le foto di Michael Phelps scritta P-H-E-L-P-S, Michael Phelps, nuotatore americano e cupping o cups, ok, vedrai che lui è livido dappertutto, più c'è un ristagno o un estasi linfatico microcircolatorio, più la coppa lasciato in presa o in posizione lascerà un segno. Quel segno che lascia chiama fattori della ricrescita nella zona, perché quando ci sono micro, microematoma o micro, diciamo, puntelini di micro rotture delle microcircole portano nella zona fattori della ricrescita, rigenerazione e aiuta a ossigenare una zona magari che è stato un po' sclerotica, un po' contratto o ha bisogno di essere migliorato in qualche modo, diciamo, dal punto di vista fisiologico. Così, l'altro motivo che voglio fare questa prova con voi è che vi uso come, scusa, perché io faccio tanto durante l'arco della giornata e come tutti quanti, e studio e faccio e produco e scrivo e faccio il lavoro. E anche io a volte non sono lì già a dovere come dovrei. Il corpo risponde sempre e le coppe funzionano da morire e quando io mi allontano dalle coppe lo vedo su le natiche, lo vedo leggermente qui, proprio questa è la mia zona critica, qua sotto vedo un po' di ritenzione idrica. Così, mi sto regalando un trattamento d'urto e lo sto facendo live con voi e questo trattamento d'urto mi aiuterà veramente a avere la pelle migliore, i muscoli migliori, ritenzioni idrica minore, ok? E così mi preparo. Devo anche fare una bellissima studio, diciamo, devo fare un po' di foto in questi giorni qui sull'isola così magari quando devi posarti in un costume da bagno, ritenzione idrica non è la massima, la cosa che vuoi vedere nella foto. Così ho detto mi porto avanti, faccio questi sette giorni e poi ci possiamo rivederci la prossima settimana e avrò la gamba anche più snella, più compatta per le foto che devo svolgere. Allora, sono le 4.55. Abbiamo parlato delle coppe, abbiamo parlato delle pedane vibrante e adesso vi devo lanciare un'altra meravigliosa cosa che aiuta con l'inestetismo delle cellulite e che ti aiuta a migliorare l'aspetto del tuo corpo perché aumenta il sistema bruci grassi in modo eclatante, cioè il trampolino. Noi, da quando è cominciato tutto il lockdown, noi di Superjump abbiamo fatto un gruppo che siamo Superjump, un popolo che salta, siamo più di 17.000 persone e una volta a settimana noi facciamo una lezione live. Le persone che fanno le lezioni sono io, mio master formatore, mio formatore, mio top trainer. Adesso vi faccio saltare con Sara Micoli, una bellissima top trainer di Trieste.